La PA deve stare sui social per stare dove sono le cittadine e i cittadini per parlare con più immediatezza, con più trasparenza e possibilmente velocemente rispondere alle loro domande, sempre tenendo presente naturalmente il valore e il significato degli corpi. In questo senso Telegram può essere un aiuto, è una newsletter 1.0 se così la vogliamo intendere, che consente di mandare a moltissimi utenti potenzialmente infiniti se si usano i canali, le proprie informazioni e anche di visualizzare immediatamente quanti di questi utenti hanno guardato l'informazione, se sono interessati e quindi costruire un nuovo spazio dove pubblicare i propri contenuti in modo dinamico, veloce e immediato.